buongiorno a tutti bellissima la musica mi piace questo questo era il countdown utilizzato credo nell'ultimo psd probabilmente ciao giuseppe buongiorno ciao marco buongiorno a tutti oramai appuntamento fisso sui più disparati argomenti logistica data driven l'altro ancora che non ricordo qual è uno precedente del marketing automation abbiamo fatto due appuntamenti sulla marketing automation ok aspettiamo giusto quei sempre classici due tre minuti cinque minuti dovrebbero essere sufficienti per quindi facciamo un recap di quello che abbiamo fatto perché no perché no vedi che nelle puntate precedenti nelle puntate precedenti preview son abbiamo fatto effettivamente marketing automation ha fatto seo la prima però non era orientata sulla seo tecnica mi ricordo che sempre strategica poi abbiamo fatto la marketing automation vabbè secondo appuntamento diciamo di marketing automation poi abbiamo fatto subito la logistica mi sembra di sì mi sembra di sì sono così pochi gli appuntamenti che abbiamo fatto no credo questo sia almeno il quinto probabilmente me ne sto perdendo qualcuno ma non ricordo nemmeno io ciao totti sempre presente che dovrebbe essere andrea non mi vorrei sbagliare fa sempre piacere che è sempre presente sempre presente sì sì anche perché è sempre un orario un po di mezzo sai vabbè post pranzo post pranzo labbiocco dici tu per me l'ora caffè l'ora caffè ma ci sta ci sta ci sta io non ne prendo non ne prendo non bevono un fumo cioè bevo ma non è che sono un alcolizzato però diciamo non fumo non prendo caffè quindi sono senza vizi tra virgolette sotto quel punto di vista ok penso di aver dimenticato cosa volessi dire comunque oggi che cosa di che cosa parliamo oggi giuseppe principalmente ospite oramai indiscusso delle nostre live ci parlerà di come utilizzare i dati per migliorare le diciamo le strategie sul nostro shop sul nostro sul nostro e commerce quindi diciamo l'argomento il topic in qualche modo che stiamo utilizzando questo mese sono le data driven promotions quindi farsi guidare dai dati giusto sì 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 e diciamo che è un argomento che per grandi righe abbiamo già già toccato anche con con il discorso della della marketing automation il fatto di farsi guidare dai dati intende proprio come dire un approccio diverso da quello che accadeva fino a qualche anno fa quindi il fatto di prendere il marketing tradizionale e unirlo a quella che è la raccolta e l'analisi dei dati che può avvenire sia sul web quindi grazie al digitale sia su su luoghi fisici anche dal punto di vista tu puoi raccogliere dati e farti guidare dal dal dato quindi niente di come dire totalmente nuovo quindi è qualcosa che almeno a parere mio è solo potenziato da quelle che sono le possibilità del del digitale quindi è comunque un approccio che è cresciuto grazie proprio ai software di analytics o comunque a quelli che sono software di raccolta dati tipo un crm che ti permette di raccogliere dati sui clienti e quindi relazionati a quel cliente in maniera più attenta quindi come dicevo qualcosa che avevamo già visto un po per grandi righe anche nel discorso di marketing e il data di ver marketing diciamo è tornato un po all'attenzione soprattutto del mercato italiano quando diciamo è venuto fuori il tema del del groghing perché uno dei principi fondamentali su cui si approccia diciamo il groghing è proprio data driven cioè farsi guidare appunto dal dal dato salutiamo un esponente del groghing italiano che è raffaele quindi se non se non lo conoscete volete approfondire il tema perché raffaele è uno che sui dati davvero ci ci tiene particolarmente quindi trovate veramente un mare di di roba rispetto a quello che oggi andremo a toccare sull'aspetto dati andate da seguire perché diciamo lui è uno di quelle figure che basa totalmente tutto l'approccio marketing proprio da sul dato quindi ci dovrebbe essere anche un un ha fatto un intervento nell'ultimo psd italiano dovreste trovarlo sulla pagina sul canale ufficiale di youtube dovrebbe essere presente johnny pascal è arrabbiato perché penso non non sia nella sua lingua però più di mettere il titolo in italiano mi dispiace sul francese io pecco l'ho detto sempre anche le altre cose non so se tu vuoi non mi lancio proprio guarda passo passi vabbè sorry johnny sorry ok scusi ti ho interrotto però sì sì no 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 quindi stiamo consigliando raffaele che sicuramente per quanto riguarda il discorso croaking e quindi l'approccio data driven è sicuramente una delle figure italiane da seguire quindi se volete approfondire il tema è il discorso è proprio che grazie al digitale oggi possiamo accedere raccogliere e analizzare quindi una mola di dati impressionanti e questo prima non accadeva perché prima si andava a creare come dire la strategia di marketing un po sull'esperienza pregressa e un po di pancia tra virgolette quindi spesso quello che era il risultato che ne veniva fuori era qualcosa che non era non era efficace ed efficiente quindi oggi invece penso che anche a te capita sempre più spesso di trovare per chi lo fa veramente bene messaggi adv comunicazioni sempre più vicine a quelle che sono i tuoi interessi alle al a quello che stai cercando in quel momento quindi io di solito io di solito non metto le spunte su accetta e quando sfotto un po i miei amici che gli escono ad esempio spesso parlano parliamo di un argomento e trovano la sponsorizzata su instagram o su facebook 10 minuti dopo solo parlando io gli dico sempre sì bravi bravi sempre accetta accetta e poi non sapete che fine fanno i vostri dati bene o male io sotto questo punto di vista riesco a tenere ancora un basso profilo e non farmi bombardare rispetto a quello che dico sì diciamo che se ti posso condividere anche a me capita sempre più spesso lato lato azienda quindi lato di chi vuole raccogliere il dato che sempre più persone cioè aumenta la percentuale delle persone che fanno attenzione a questo aspetto anche perché come dire è diventato di dominio pubblico questa questa approccio quindi gdpr tutte queste cose che fanno bene sicuramente da un certo punto di vista quindi le persone sono molto più sensibili e quindi questo non vuol dire che non è possibile fare marketing data driven perché diciamo i momenti principali legati all'approccio guidato dai dati per per me sono sono tre cioè possiamo farci guidare dal dato prima ancora di decidere se creare un progetto e commerce comunque acquistare un un prodotto e metterlo all'interno del nostro catalogo quindi prima di di avviarsi in questa in questa avventura durante quindi proprio la raccolta del dato relativo al progetto e l'analisi quindi lo studio di quello che il dato relativo al tuo progetto quindi a quello che ti sta raccogliendo se li vogliamo come dire vedere velocemente quando parliamo di analisi del dato e quindi farsi guidare dal dato prima di fare un progetto questo diciamo è relativo alla mole di strumenti e alla mole di dati appunto che oggi sono accessibili grazie al digitale che ci permettono di avere una dimensione del mercato un trend di mercato se vogliamo fare proprio qualche esempio pratico banalmente possiamo se volessimo aprire un e commerce di abbigliamento possiamo attraverso l'accesso a delle degli strumenti a delle delle fonti che mettono a disposizione i dati che hanno raccolto dalle ricerche di mercato questo avveniva anche prima ma in maniera più complessa diciamo più costosa oggi è più accessibile riusciamo a sapere quanto è la dimensione di quel di quel mercato quindi questo è un primo dato che possiamo raccogliere magari lo possiamo verticalizzare su una categoria merceologica se uniamo questo accesso a questa informazione a quelli che sono anche altri strumenti che troviamo a disposizione nel panorama digitale se pensiamo a google trend ad esempio quindi penso che anche te è capitato di utilizzarlo è lo strumento gratuito di google quindi google trends raramente non è il mio si lo conosco ma non è il mio diciamo il mio ambito la mia area però lo conosco sì diciamo che viene utilizzato sia per analisi dei dati ma spesso almeno nel nostro settore ironicamente viene utilizzato anche per capire se stiamo andando in lockdown o meno guardando la il trend di cerca di lievito madre per esempio per esempio quindi vabbè scherzo però però è uno spaccato della della realtà nel senso che banalmente se accediamo al strumento google trend e andiamo a cercare effettivamente l'evito madre andremo a vedere come il trend di ricerca in italia sull'anno c'ha il picco in nel mese di marzo poi crolla dopo dopo uno due mesi quando è finito il lockdown e adesso sta risalendo meno ma è risalito quindi questo per per fare l'esempio però uno strumento banalmente gratuito che ieri non era disponibile fino fino a qualche tempo fa ci permette di verificare la qualunque possiamo verificare se un brand è più cercato di un altro e questo è un dato cioè e ci può aiutare all'interno del nostro negozio fisico all'interno del nostro e commerce di decidere se investire o puntare su un brand piuttosto che su un altro quindi banalmente cioè senza spendere un euro possiamo fare qualcosa che fino a dieci anni fa era molto più complesso da da fare l'altra cosa ad esempio se vogliamo condividere qualche altro strumento c'è il facebook audience in site che è lo strumento che facebook mette a disposizione per analizzare le audience all'interno del dello strumento facebook e cosa che cosa ti permette di fare ti permette di andare ad unire quella quella ricerca che abbiamo detto prima questo è un attimo magari il termine audience potrebbe essere un attimino ostico per qualcuno ok potrebbe da ignorante diciamo posso capire magari che un attimo audience che cosa è il pubblico sostanzialmente quindi facebook ti permette di andare a creare una una simulazione naturalmente sono sempre dati statistici all'interno dell'ecosistema del dei dati che a disposizione quindi sulla base delle persone che sono scritte a facebook quindi torniamo sul sul discorso delle famose spunte che dicevi prima quindi se io entro in facebook quando fanno il classico esempio se il prodotto è gratis vuol dire che sei tu praticamente la moneta di scambio la moneta di scambio e quindi facebook cosa fa ti fa accedere ti chiede una serie di informazioni obbligatorie o meno o sei tu che gliele dai queste informazioni strada facendo utilizzando la piattaforma mettendo il mi piace a una pagina seguendo qualcuno in automatico in qualche modo apprende esatto cioè tu lo fai istintivamente perché sei attratto da qualcosa interagisce interagisci con qualcosa e questo entra a far parte di un ecosistema che dall'altra parte permette a chi fa marketing di andare a vedere e fare una stima dire ok ho messo a confronto i due brand ho deciso che questo è il brand più interessante perché google trend sulla ricerca e google lo sappiamo rappresenta il 90 per cento del mercato delle ricerche online quindi un dato abbastanza efficace ed efficiente certo andiamo a vedere in un ecosistema come facebook che ha quasi la totalità del del pubblico diciamo esistente sul globo dico quasi perché poi ce ne ce ne sono tante altre di piattaforme che forse e che quindi bisogna vedere o rispetto all'età rispetto a lo puoi verificare puoi dire su facebook quante persone di quest'età di questo sesso sono interessate a questo brand e lui ti tira fuori una stima che è un altro dato ti fa capire una dimensione quindi lì sai se è un terreno fertile prima ancora di decidere andiamo su facebook se vale la pena quindi questo per per dire come cambia il paradigma e come utilizzare l'approccio a del dato per prendere decisioni ancora prima di fare qualsiasi cosa quindi interessante piuttosto che buttarsi così perché dice no a me piace facebook e magari può essere una sensazione a volte può essere giusta però ovviamente lì è dettato dalla dal caso dalla fortuna così invece noi spendiamo un po più di tempo in un'analisi e siamo un po più sicuri anche magari di un eventuale risultato di una strategia possiamo pianificare meglio esatto esatto possiamo anche fare un test ma lo possiamo fare con una consapevolezza maggiore in maniera più mirata e possiamo anche decidere di non farlo perché come dite l'analisi che abbiamo fatto e quindi non spendiamo nemmeno una lira a quel punto non ci ha dato un esito positivo quindi vediamo che per quel brand all'interno di facebook non c'è interesse o è la dimensione del pubblico è talmente piccola da rendere inutile questo test quindi dice facebook non è l'ecosistema dove dobbiamo andare a ad investire quindi messo in correlazione con la dimensione che avevamo trovato prima magari con google trend ci può far capire che magari è più interessante andare ad investire magari in google ads perché le persone approcciano quel brand probabilmente fosse attraverso il motore di ricerca e non o comunque non ci sono dati sufficienti su facebook dovremmo fare un test per vedere se potenzialmente non non c'è interesse per quel prodotto perché quel quel brand quel prodotto su facebook non c'è ancora quindi bisogna sempre relazionarlo rispetto allo stato di fatto se stiamo lanciando nel brand è sicuro che nessuno sarà interessato a quel brand però diciamo quando parliamo di brand grossi ci deve essere una corrispondenza sicuramente ci sarà magari abbiamo fatto un esempio su però però diciamo magari nel caso in cui tu stai lanciando un brand piuttosto che cercare il brand magari cerchi la categoria del tuo brand diciamo se se produci non so penne per dire magari cercherai persone che sono amanti che scrivono stai facendo una penna di design andiamo su su interessi come dire che che sono relativi a quel quel prodotto ma non mirati precisi a quel prodotto perché magari lo stai lanciando comunque non c'è una corrispondenza così precisa quindi devi allargare devi andare su che ne so il il prodotto tuo può essere acquistato da il titolare di un'azienda e quindi verificare quanti titolari di azienda ci sono per la gioia del del francese di prima mio fratello mi regalò questa parker che è un'azienda francese di penne non so mi è venuto in mente però c'erano giusto qua in caso in realtà non è preparato ve lo giuro e quindi vabbè niente scusami perdona mi vai quindi sì diciamo abbiamo fatto un esempio sul brand ma lo possiamo vedere sulla professione su tutti quei dati che facebook ha raccolto e che nell'audience insight di ti mette a disposizione dove tu puoi cercare combinare il sesso con l'interesse con il luogo geografico quindi diciamo è un esempio per dire c'è la possibilità di oggi di poter fare un approccio diverso prima di decidere c'era c'era qualcosa anche in google ads per da quello che ricordo quando si impostava una campagna in qualche modo mettendo le keyword ti dava un pubblico non so se te lo dà ancora in realtà c'è il pubblico una stima sul sull'età si ti dava di una stima sul pubblico che potevi raggiungere in base a livello geografico è più preciso al livello di età ci farei meno meno affidamento perché non essendo un social network potrebbe c'è lì su facebook dichiari a meno che non metti i dati fa salire c'è sempre c'è sempre una percentuale di scarto è normale è un classico sperando che ne faccia lo sappiano probabilmente nel calcolo sicuramente sarà conteggiato comunque l'errore margine di errore c'è sempre però è per dire c'hai dei dati a disposizione prima ancora di invece l'altra parte è la raccolta dei dati quindi abbiamo abbiamo un e commerce abbiamo un progetto online e come nel caso di facebook che raccoglie segnali lo dicevamo nella puntata della relativa marketing automation abbiamo accennato al concetto del digital body language cioè linguaggio del corpo digitale ovvero il fatto che c'è un monitor davanti a me quindi interagisco con con quelle che sono le interfacce che ho davanti quindi il sito quindi clicco aggiungo al carrello acquisto e quindi ti sto dicendo qualcosa su di me quindi se metto nel carrello una serie di prodotti di una categoria merceologica e li compro ti sto dando un chiaro segnale di un caro segnale di quello che mi interessa e quindi questo è un dato da raccogliere e da sul quale tu vuoi prendere una decisione strategica quindi puoi creare un una comunicazione un messaggio più mirato rispetto a quello che l'utente ha fatto nei tuoi confronti quindi appunto lì abbiamo detto con con il tema della marketing automation lo fa in maniera automatica perché magari c'è un'intelligenza artificiale dietro e ti automatizza dei processi invece diciamo se lo vuoi fare in maniera comunque ispirata dai dati puoi tirare fuori eh dei dati dal dal tuo e-commerce dal dal tuo shop e quindi capire eh quante persone hanno acquistato una categoria merceologica quante persone si sono hanno eh comprato da una città quindi questi sono tutti elementi che oggi ti possono aiutare a prendere decisioni strategiche che possono servire per il marketing e quindi decidere di investire eh in campagna dv geolocalizzate eh andare a fare delle azioni mirate su alcune categorie merceologiche che si si stanno muovendo bene quindi allargare il bacino di prodotti per esempio e quindi possiamo eh migliorare quelle che che sono appunto le evoluzioni del del nostro shop del nostro e-commerce un altro modo eh diciamo per raccogliere dati quindi al di là dello dello strumento shop che di default già lui acquisisce dati che non devono rimanere lì come dato statistico solo economico ma ci possono essere appunto utili per capire eh le preferenze del della nostra audience eh è chiederlo ai nostri clienti e questo lo possiamo fare clienti e utenti quindi questo lo possiamo fare attraverso dei dei questionarii delle interviste o attraverso delle interfacce eh quindi può essere una mail un forum un 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 pop up che che ti esce in un preciso momento e in un luogo preciso per capire quali sono eh le preferenze se c'è qualcosa da migliorare quindi se eh possiamo eh dobbiamo prendere un'altra strada e questo è un altro modo di eh di raccogliere dati quindi per dire eh possiamo inviare un questionario a chi non ha acquistato ancora ma ci ha lasciato le mail per chiedere perché non ha acquistato magari che ne sai ci dice che non c'è chiaro non gli è chiaro qualcosa mettendo insieme tanti dati eh di questo tipo possiamo modificare quello che non sta funzionando quindi un check out che magari è poco chiaro oppure è una comunicazione che un bannerino rassicurativo lo spostiamo e ne abbiamo i benefici e non lo facciamo perché mi piace che sia lì piuttosto che da un'altra parte è giusto esattamente esattamente cioè questo è proprio un esempio pratico che ti fa capire la 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 potenza della dell'approccio diciamo ehm un'altra cosa potrebbe essere questo diciamo è banale la richiesta di feedback non solo di feedback sul prodotto ma magari può essere anche sul sul servizio quindi eh chiedere ad esempio sull'imballo sul customer service o un consiglio eh generale che eh che ci possono dare e questo ci aggancia proprio a una delle sorgenti di dati eh più importante secondo me per avere un e-commerce che appunto è il customer service e mh avere un customer service eh attivo e puntuale magari anche telefonico in alcuni casi può essere veramente determinante cioè può fare veramente la la differenza perché sono proprio i clienti le richieste che eh che vengono dai clienti che ci fanno intercettare nuove esigenze o nuovi o dei problemi che ci sono all'interno del dell'e-commerce ehm se se vuoi ti ti faccio un paio di di racconti reali che mi sono successi eh con un cliente che mai non chiamo nemmeno più cliente perché come se fosse la la mia azienda online ehm abbiamo eh abbiamo preso delle decisioni che sono venute fuori proprio dal dal dato eh e vado eh nel nel dettaglio eh praticamente diciamo siamo riusciti a decidere di aprire un punto vendita fisico fuori eh dal dalla nostra diciamo posizione geografica quindi fuori dal eh dal territorio in cui l'azienda eh è nata proprio grazie ai dati e proprio grazie al customer service e dall'unione eh di di questi due di questi due sorgenti ehm questo perché perché ehm il customer service ci ha segnalato che molte persone molti clienti eh chiamavano in azienda per chiedere se ci fosse un punto vendita eh nella loro zona eh e questo grazie al fatto di raccogliere questo dato e metterlo da da parte ci ha fatto capire prima eh diciamo a livello di eh di di regione o comunque di di provincia quindi su su Roma c'era un'esigenza eh di di mancanza cioè non c'era un un'azienda che facesse eh quello che che facevamo noi e quindi siamo andati ad approfondire eh la cosa e abbiamo detto al customer service guarda chiedi che zona di Roma di Roma si è sentito il citofono immagino o pensavo che fosse un disturbo in cuffia ti ho detto no è il corriere che è il dito pesante tutto a posto. Ah ok guarda dovrebbe arrivare anche a me. Bene. Quindi in diretto due consegne eh potrebbero essere divertenti. E quindi ci siamo incuriositi e abbiamo detto da un lato al customer service quando ti chiameranno altri prova a chiedere proprio la zona di di Roma da da cui ci chiamano eh e che cosa abbiamo fatto? Siamo andati a vedere dentro Google Analytics ad esempio eh i visitatori da quale zona diciamo focalizzati su Roma eh venivano e l'abbiamo collegato a quello che è stato l'export di tutti gli ordini storici fatti da Roma e naturalmente che aveva sapevamo gli indirizzi sostanzialmente. Esatto. Quindi un lavoro abbastanza lungo ma abbiamo individuato abbiamo ristretto il cerchio e abbiamo detto ragazzi è questo il il posto dove dobbiamo cercare un uno spazio un luogo dove aprire un punto vendita. Quindi scusa se ti interrompo è molto interessante cioè è super interessante perché l'azienda online ovviamente cioè ha già un punto fisico o un più 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 punti fisici in zona ha uno shop online e tramite poi l'unione diciamo dello shop online degli ordini il customer service quindi tramite il customer service raccolta dati di zone eccetera eccetera che cosa è successo si è aperto un altro punto fisico quindi esattamente offline. Cosa che probabilmente dieci anni fa era impensabile cioè si sarebbe andati lì un po' a naso un po' a convenienza delle tasche sì e vabbè proviamo apriamo un mese e vediamo come va invece cambio di paradigma prendendo questa decisione così noi all'inaugurazione avevamo già i clienti fuori dalla porta cioè si abbiamo detto ragazzi siamo aprendo e loro sono venuti perché erano connessi. Certo certo magari prima ma si fa ancora ma per alcune situazioni si sceglie la strada la strada dello shopping in qualche modo nelle grandi città ovviamente con costi esorbitanti eccetera soprattutto approcciare in un'altra città e uscire dai propri diciamo da proprio come dire dalla propria comfort zone fisica quindi offline spostarsi in un'altra città abbo prima era un azzardo probabilmente molte si saranno si saranno rovinati invece in questo modo si è andato a colpo sicuro è bellissimo è perfetto cioè tu stavi per aprire avvisato i clienti ha detto che resti aperto lì che era la zona individuale cioè devi vincere per forza non puoi non puoi sbagliare cioè è proprio quello il cambio di paradigma quindi al di là del dei paroloni delle buzzword delle cose come dicono quelli fighi e mindset cioè ma è approccio è un approccio dove devi internalizzare e lo devi calare su qualsiasi cosa quindi è proprio guardare le cose in maniera diversa quindi prima di prendere la decisione ragazzi aspetta aspetta un attimo domanda abbiamo visto sta cosa abbiamo cercato questa questo dato abbiamo confrontato questa cosa quindi è questo sostanzialmente quindi lo puoi applicare a qualsiasi cosa l'altra cosa è il lancio di nuovo servizio abbiamo lanciato un nuovo servizio perché questo è venuto dopo abbiamo detto ma possiamo replicare sta cosa n volte e abbiamo detto però ci vuole la persona che deve andare lì devi trovare il posto perché non lanciamo online sta cosa andiamo noi a casa del cliente con il corriere ritiriamo la merce facciamo tutto quello che dobbiamo fare gliela riconsegniamo è lì quindi cioè stessa cosa sapevamo che c'era l'esigenza l'esigenza l'abbiamo calata su più città su tutta italia abbiamo iniziato a chiedere ma lei lo farebbe ma che cosa quali sono i prodotti che vorrebbe fare quali sono abbiamo fatto dei test dei micro test su diverse città quelle maggiori abbiamo visto che le persone hanno detto cavolo e non ce l'ho vicino casa questo questo negozio lo faccio online bello loro vengono se vuol dire fanno tutto non li consegnano sì perché no e quindi nato un nuovo servizio che non immaginavamo nemmeno di fare ma è arrivato dai clienti quindi sono loro che ci hanno guidato e quindi questa banalmente per dirti un approccio che reale concreto che è venuto fuori da questo l'altro l'altro elemento è proprio l'analisi del dato quindi cioè come fai fisicamente a fa sta cosa l'abbiamo accennato un po con l'esempio quindi dobbiamo raccogliere dati naturalmente quando si di dati possiamo raccoglierne una mole davvero incredibile l'importante è leggere quelli quelli giusti diciamo che i dati principalmente si dividono in due macro categorie che sono quelli che ci dico che cosa sta succedendo quindi i dati quantitativi quindi sono dei numeri precisi che ad esempio possiamo leggere da google analytics quindi numero di visitatori la durata della visita le interazioni su un post su facebook in generale le condivisioni che abbiamo quindi quello ci ci dice che cosa succedendo quindi sta diminuendo sta aumentando aumentando un numero quindi l'altra cosa è perché sta succedendo e sono i dati qualitativi e quindi questo lo sappiamo interrogando gli utenti attraverso interviste attraverso i sondaggi abbiamo detto prima oppure attraverso strumenti che ci fanno capire come le persone stanno interagendo con il nostro e commerce quindi parliamo di strumenti che ci fanno l'analisi del comportamento quindi i vari o già presi e smart look che ti fanno vedere come le persone interagiscono e quindi unendo l'insieme di questi dati quindi quelli numerici quindi i quantitativi ai qualitativi capisci perché sta succedendo qualcosa e cosa sta succedendo e quindi riesci a prendere una decisione di ok dobbiamo fa sta roba la dobbiamo implementare perché è successa sta cosa ed è successo per questo quindi dobbiamo correre le piavi quindi dobbiamo lanciare questo servizio quindi dobbiamo aprire il negozio lì inviata al dettaglio quindi questo diciamo ecco come approcciare al dato quindi scegliere attentamente quali sono i dati realmente realmente utili anche questo poi probabilmente è questione di un po di esperienza pratica e giustamente non è semplice diciamo così alle prime armi forse si dipende molto dalla tipologia di business e quindi dall'obiettivo pure che si vuole raggiungere cioè definire il dato è legato sicuramente all'obiettivo di business cioè che qual è l'obiettivo l'obiettivo è aprire nuovi punti vendita quali sono i dati che dobbiamo andare a leggere quindi dipende da questo può capitare il caso come dire che ti si accende la lampadina dal dato però principalmente se vuoi leggere come nel caso del diciamo del lancio del servizio che non era previsto ma attraverso come dire un segnale di quantitativo quindi il numero di e sul perché sta succedendo quindi ma perché non avete un negozio in zona no non abbiamo un negozio in zona ok quindi allora dobbiamo lanciare un servizio potremmo lanciare un servizio quindi da quello oppure un obiettivo ben preciso quindi noi dobbiamo leggere questi dati perché vogliamo sapere quali sono i punti vendita che dobbiamo aprire dove li dobbiamo aprire quindi ragionamento inverso diciamo cioè di approcciarti in entrambi i modi diciamo che principalmente devi definire un obiettivo quindi la strada sarebbe la seconda definizione di un obiettivo raccolta dati esattamente esattamente cioè qual è il dato che ci occorre per prendere questa decisione questo e questo ok perfetto allora mettiamoci lì e cerchiamo di raccogliere questo dato cioè processo è diciamo dovrebbe essere questo poi quando c'è la sensibilità sul dato c'hai l'occhio vedi cioè capisci quella è una sensibilità come dire sviluppata rispetto al business quindi quando hai davanti i dati o comunque riesci a percepire che c'è qualcosa che potrebbe essere interessante da quel punto di vista allora ti si accende per approfondire vai a scavare più a fondo molto interessante molto interessante molto interessante no no mi è piaciuto cioè anche l'esempio concreto proprio dal fatto che ti ho detto dai dati abbiamo aperto un nuovo punto fisico molto 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 bello che cosa volevo dire abbiamo lanciato ma forse già lo sai prestashop matrix quindi proprio legato legato ai dati che cos'è è un modulo che si installa poi in compatibile con 1.6 1.7 abbiamo proprio lanciato questo mese e permette di sfruttare i dati di analytics ovviamente devi avere analytics collegato e i dati interni di prestashop quindi le sessioni di analytics gli ordini ricavi le sessioni quindi fa un po un po di tutto questo qua mi sono preparato un po di screenshot diciamo metto anche link adesso mentre magari mi dice un po che cosa ne pensi di queste schermate di questi tab che poi vengono messi nella nella dashboard di prestashop quindi quando si fa il login al pannello di controllo dashboard la pagina principale tra virgolette del back office una volta installato collegato con analytics abbiamo abbiamo questo questa interfaccia molto più intuitiva rispetto alle statistiche di base allora vediamo se riesco a condividerti il primo tab spero di trovarlo allora tab ricavi eccolo qua io non non l'ho visto ancora diciamo bene dal dal punto di vista non l'ho ancora tastato tastato ok ok allora questo qua l'abbiamo grazie alla gentile concessione di un merchant che a chi apprestashop ci ha condiviso ovviamente abbiamo oscurato i dati sensibili in qualche modo quindi una volta installato questo è su addirittura su uno shop su una 1.6 e non 1.7 però l'interfaccia è praticamente la stessa quindi nel tab attività tra virgolette in alto puoi decidere il periodo per un massimo di tre mesi e poi c'è questi quattro tab principali con ricavi ordini sessioni e conversione nel frattempo che mi dici cosa ne pensi di questo tab in qualche modo metto il link alla presentazione allora guarda sicuramente questo è uno strumento che è un'evoluzione un po di di quella che la dashboard correggimi se sbaglio che già c'era in prestashop di default e questo è molto utile sicuramente per capire il trend quindi in questo caso noi stiamo guardando un dato quantitativo quindi sappiamo che abbiamo fatto un determinato ricavo e l'altra cosa che diciamo può venire fuori ci sono i dati sulle sulle categorie in basso vedo quindi può essere molto molto utile visto che lo puoi fare sui periodi per definire una stagionalità di alcune categorie merceologiche quindi si vende più questo in questo periodo e viceversa e capire che cosa vuoi spingere di più quindi potresti personalizzare l'home page mettendo in risalto di più una categoria che è quella che già di default va in quel periodo e quindi accorciare ancora di più il click da questo punto di vista quindi andando a giocare con con le date con le date appunto può essere molto molto utile per tirarti tirati fuori un dato del genere quindi prendere decisioni su come ordinare il lo shop o magari c'è una categoria merceologica è molto più forte e magari è nascosta quindi la puoi mettere più in risalto accorciare il click e cercare di farla farla crescere ulteriormente quindi questo sicuramente può essere una cosa molto molto utile a colpo d'occhio ce l'hai lì e o puoi riscontrare appunto se hai fatto un'azione verso quella categoria se nel giorno ha risposto come ti aspettavi o non è andata come come volevi c'è una domanda da parte di anto ma perché dovrei guardare gli analytics dentro prestashop e non direttamente da google analytics esprimo il mio punto di vista poi mi dice anche la tua in realtà prestashop matrix non ti dà tutti i dati di analytics analytics è immenso qui hai un estratto delle sessioni che è quello che poi che magari anche il merchant mi verrebbe da dire più ignorante tra virgolette ma non è proprio corretto cioè non addentrato in analytics che è comunque uno strumento molto potente può a colpo d'occhio capire un attimino un dato abbastanza semplice questo è il mio punto di vista ovviamente per dati più approfonditi e per estrapolare informazioni più più complesse ovvio che devi andare su su analytics secondo me tu che dici giuseppe io sono sono d'accordo con te nel senso che prestashop lo sappiamo è una piattaforma come dire rivolta al a chi al merchant quindi principalmente quindi merchant friendly la definirei quindi proprio per facilitare quelle che sono le decisioni di chi guida in teoria la macchina inteso come titolare del dell'azienda e commerce quindi credo che diciamo può essere una lettura che concordo quindi questa non è quella relativa quella che stai facendo vedere ad analytics no ancora no questo è il tab degli ordini infatti tab ricavi non l'abbiamo detto tab ordini al momento la fonte è lo shop il nostro shop stesso elena ci chiede al volo perdonami prestashopmetrics modulo gratuito si lo trovi o direttamente da back office nella 1.7 nel catalogo moduli o su addons sul marketplace ufficiale lo scarichi gratuitamente lo installi al volo quindi sì sì gratuito totalmente gratuito dimmi vai giuseppe sì sì no dicevo poi poi magari quando arriviamo sulla tab delle sessioni approfondiamo lo spunto che ci faceva antonio relativa alla tab diciamo che stiamo vedendo adesso sicuramente anche qui diciamo potrebbe essere il kpi dobbiamo fare dieci ordini giorno quindi dobbiamo fissarci che ad esempio questa cosa qui ci dà il colpo d'occhio se abbiamo raggiunto l'obiettivo o meno nel nella giornata quindi già questo potrebbe essere un prima una prima chiave di lettura da dalle altre cose diciamo che che vedo che sono state messe diciamo in risalto c'è se vedo bene il valore medio dell'ordine abbiamo valore medio dell'ordine tasso di abbandono del carrello questi sono i due dati principali ecco ad esempio questa cosa qui messa su come dire un comparto temporale più ampio o comunque se vuoi fare un focus in un periodo preciso in un momento preciso ti fa capire ad esempio soprattutto in una fase iniziale se devi cambiare la strategia ad esempio di spedizione gratuita o di prodotti in cross selling proprio per aumentare lo scontrino medio quindi ad esempio diciamo quello che viene utilizzato di solito è mettere la spedizione gratuita per arrivare allo scontrino medio desiderato e quindi questo ti può aiutare a capire se stai raggiungendo quell'obiettivo o meno o se devi spingere su determinati prodotti in cross sell per cercare di aumentare quello che è lo scontrino medio quindi per darti un obiettivo e leggere se stai raggiungendo o meno quel quell'obiettivo se ci vogliamo spostare sul tasto di abbandono del carrello che non ricordo se sulla dashboard precedente era era così evidente comunque messo lì lo trovi nella pagina carrello perché poi infatti nel qui c'è un link vedi i dettagli e nella pagina carrello ti dà c'era questo dato però ci dovevi andare appositamente appositamente e ricordavo che non era non era così evidente qui tu hai questo dato a portata di mano che ti fa capire ipoteticamente in un lasso temporale o in un momento preciso se lo guardi quotidianamente ad esempio ieri era basso e oggi è altissimo è altissimo due sono le cose è attivato è arrivato un traffico così esagerato non qualificato tale da aumentare il tasso di abbandono o ancora peggio c'è un problema c'è un problema quindi ti è un segnale immediato che dice cavolo dobbiamo vedere che cosa sta succedendo sul carrello ma funzionano tutti i pagamenti ma non è che da mobile è successo qualcosa non è che c'è qualcosa di sovrappone e non andiamo a vedere oppure andiamo ad innestare uno dei tool che abbiamo detto prima ad esempio jar che ti va a fare una mappatura di quello che è il comportamento la registrazione di sessione su sulla pagina carrello e quindi vai a vedere che cosa succede quindi segnali segnali campanello è anche piai preciso che in questo caso nel caso di un e commerce ti fa capire sta sta cosa quindi lo puoi vedere su un lasso temporale o quello puoi vedere istantaneo se varia tra un giorno e l'altro ok ti sto condividendo il terzo tab che è quello che probabilmente è un po sessione eccolo qua quindi qui abbiamo le sessioni ovviamente nei vari tab abbiamo la possibilità di mettere il grafico per giorno settimane o mese e abbiamo sessioni le sessioni gli utenti scritto piccolino la fonte google analytics e poi il traffico per canale questo ma sono dati che ovviamente vengono da analytics come come ci diceva anto però li abbiamo qui per comodità e ci permette di comunque fare un rapporto un po più rapido secondo me rispetto a da vai su analytics vai nel tab poi degli obiettivi le cose diventa un attimino forse un po più ostico su analytics qui rapidamente riesci a leggere qualcosa sì io direi che sicuramente sarebbe interessante poi l'evoluzione intersecare un po il dato analytics con il dato interno del di prestashop questo potrebbe essere un'evoluzione molto molto interessante perché qui sostanzialmente andiamo a prendere le sorgenti di traffico e quindi a dare sul sull'asso temporale quello che il diciamo l'impatto e qui per per dire a tanto sì sicuramente se sei un utente più evoluto vai in in analisi se lo vedi anche qui però per comodità ad esempio se stai facendo un'azione di marketing mirata puoi vedere se c'è una corrispondenza hai mandato un email siamo al n n cose in un periodo ben preciso quindi black france facendo campagna su facebook qui senza andare diciamo in analytics vedi oggi come sta andando quanto è impattato l'email che abbiamo mandato sul sul su oggi o sulla settimana quindi questo potrebbe essere diciamo una lettura immediata che gli darei da questo punto di vista quindi ok metto sto mettendo nel frattempo il link alla a questa diciamo quest'area questo portale che prestashop ha messo a disposizione per condividere o per votare delle idee per quanto riguarda lo sviluppo sia della piattaforma principale quindi di prestashop stesso sia della di prestashop matrix che di prestashop check out quindi su cui a questo link diretto in questo caso date direttamente sulla board di di prestashop matrix ci sono le idee ad esempio che potete inviare delle idee per migliorare il modulo se nel caso in cui ci sono problematiche però in quel caso consiglio github per i problemi qui è più che altro per le idee ci sono le idee in sviluppo quelle che probabilmente verranno sviluppate e alcune diciamo ancora in fase di valutazione quindi se volete esprimere la vostra opinione o sottolineare un'idea di evoluzione in qualche modo di ma perché non aggiungiamo questa funzionalità potete farlo tranquillamente su sul link che abbiamo messo nei commenti e passerei all'ultima tab che dovrebbe essere conversione ok quindi abbia bello abbiamo conversione la prima percentuale e poi abbiamo una percentuale più piccola con scritto in base agli utenti la fonte il rapporto fra ordini e sessioni e sessioni beh questo questo finalmente direi perché questo non ricordo di no no che ci fosse a disposizione dentro prestashop no ce la ce l'hai su analytics ma sempre in base a quelli analytics aspetta e qui per per dire ricollegandomi proprio a quello che diceva anto prima qui 1 a 0 per presto ciò perché finalmente questo è il tasso di conversione e commerce reale quindi veramente qui c'hai un dato concreto perché analytics magari o si perde la conversione la traccia può capitare cioè c'è una percentuale qui hanno fatto una cosa bella perché questa è la nostra stella cometa cioè l'obiettivo di ogni commerce è alzare il tasso di conversione quindi ci ci dà questa questa immediatezza che secondo me è fantastico da questo punto di vista e altrimenti dovevi ricavare e l'altra cosa che potevi ricavare era la fedeltà del cliente e qui ce l'hai abbastanza immediato cioè veramente ma colpo d'occhio vedi se diciamo sono più nuovi clienti più clienti fedele quindi che cosa devi fare cioè dobbiamo aumentare la fedeltà del cliente perché l'obiettivo dell'e-commerce e fidelizzare quindi non puoi avere un tasso di clienti nuovi che è più grande e cresce sempre di più rispetto a quelli dei fidelizzati quindi deve essere l'opposto nei fidelizzati che devono aumentare sempre di più e quindi capire come fare a ad ottenere questo e questo potrebbe essere un modo per dire ok questa settimana siamo al 15 per cento puntiamo al 20 per cento in settimana prossima che cosa vogliamo fare proviamo a delle promo proviamo a mandare delle mail proviamo qualcosa quindi questo secondo me è o comunque ci può essere utile per capire diciamo quale qual è la l'audience che abbiamo cioè se lavoriamo solo ed esclusivamente su nuovi clienti e quindi non riusciamo a fidelizzare quindi ci può far venire fuori un po di domande interessanti qua il periodo selezionato in questo screen sono sette giorni quindi probabilmente perciò i nuovi clienti in questo caso magari sono maggiori dei clienti abituali potrebbe essere un l'intervallo il tasso di tempo non so se mi senti perdonami mi sono perso il periodo di questo screen sette giorni dal 10 al 16 novembre ok e in basso se vedi in questo tab abbiamo una percentuale molto maggiore di nuovi clienti che di clienti abituali esatto potrebbe essere legato al piccolo periodo molto recente poi fra l'altro perché il periodo è proprio due giorni fa in realtà esatto esatto sì questo in questo caso sì cioè i sette giorni quindi se avevi un dato opposto probabilmente avevi mandato una newsletter o comunque avevi avvisato o comunque ha dei prodotti molto ricorrenti che se li mangiano quotidianamente e quindi in sette giorni riacquistano sì sì sicuramente bisogna giocare sui lassi temporali fuori discussione sì Narangi web agency ci dice ciao parlate di tool noi ci siamo collegati ora potreste per favore incollare qui link grazie non so quali tool allora noi salta attualmente stiamo parlando di pressa shop metrics che è gratuito lo trovi su addon sono i back office della 1.7 compatibile per 1.6 e 1.7 di pressa shop di quali altri tool abbiamo parlato ma abbiamo parlato oggi che ci permettono di tracciare in qualche modo e quindi acquisire come dato il comportamento il comportamento dell'utente che abbiamo detto abbiamo detto google trends ma l'ho messo nei commenti il link altrimenti può riavvolgere la riavvolge e magari ci scrive se si infatti tranquillamente assolutamente riavvolge il nastro e rivede come come si suol dire ok ok allora ci sono c'è un altro tab che è cresci impressa shop metrics non ho non ho altri non ho screen ma ci sono tutta una serie di link ad articoli per poter potenziare in qualche modo le varie strategie mi manca uno screen però magari lo installate si installa veramente vi ho messo i link alla guida dell'installazione ma è semplicissima ci si colci bisogna avere un account addons questo è obbligatorio lo si installa si si collega ad addons si collega ad analytics e si hanno i dati direttamente nella dashboard tenete presente che questo modulo vi disabilita tutti i vecchi moduli di statistiche nella dashboard e si sostituisce in qualche modo nelle idee che vi ho messo della product board porta al product board quindi dove potete visionare le idee eccetera è stato già proposto ad esempio una pagina a parte completamente a parte con tutta una serie di kpi molto più quindi con tanti dati in più rispetto ad avere quel singolo quella singola quel singolo box nella dashboard quindi votate perché poi in base ai voti verranno sviluppate le feature quindi anche qui noi ma diciamo prestashop acquisisce dati da dagli utilizzatori per prendere decisioni per prendere decisioni sul sì sì mi sembra la cosa più logica da fare in realtà è sì perché così si si accontenta in qualche modo chi chi lo utilizza dice ma io ho bisogno di questa cosa quante altre persone hanno bisogno di questa di questa funzionalità 100 ok magari bisogna svilupparlo elena dice l'unica cosa negativa dell'installazione di pressa shop metric che si è andata a sostituire a tutto quello che era precedentemente presente nel pannello di controllo che era l'ordine eccetera si appena detto li puoi riattivare perché io nello screen non ho preso c'è un bannerino che ti permette di riattivarli questi moduli ma in sostanza fanno quasi la stessa cosa quindi non so quanto convenga poi tenere quelli e questo non saprei provate fate fate delle pro non lo so perché dipende da come sei abituato sul dato perché naturalmente credo che sicuramente tutti accedevano alle dashboard per capire un andamento comunque sicuramente avere quelle quei numerini sai ti ti aiuta a decidere qualcosa magari passare lì magari non ti ritrovi quel dato preciso che tu era abituata a prendere lì quindi sì però ripeto elena magari sul sul sito product board posta invia la tua idea magari per raggiungere quei dati che ti mancano e che magari ti erano comodi vedere direttamente in dashboard certo è comunque una prima versione ricordiamo una prima versione di di matrix ovviamente con tutto l'obiettivo di con tutte le cose positive e negative di una versione certo 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 allora domani dovrebbe uscire proprio un mio video su matrix un po più nel dettaglio in qualche modo volevo rassicurare anche un po chi aveva diciamo qualche dubbio sulle prestazioni da quello che ho potuto analizzare eccetera vi do un'anteprima i dati che poi vengono raccolti cioè quando si accede al back office e si carica la pagina del back office non c'è nessuna chiamata raccolta dati eccetera e analisi in qualche modo che potrebbe rallentare il caricamento della dashboard ma una volta caricata la dashboard che poi si tratta di pochissimo html tutti gli altri dati vengono caricati in modo asincrono quindi vengono effettuate delle richieste poi per raccogliere dati e mostrarli quindi non c'è un rallentamento di apertura pagina ovviamente c'è quel l'attesa di caricamento asincrono dei dati quindi sotto quel punto di vista là dovreste trovarvi comunque una dashboard come dire reattiva e non che state lì ad aspettare che carica la pagina perché magari sta sta aspettando quei dati la pagina si carica magari dovreste aspettare un po di il caricamento dei dati però solo di quel di quel box lì ecco ok marco siamo in chiusura io direi velocemente giusto per per dire qualcosina più sul proprio sulla sull'analisi dei dati e diciamo strumenti visto che qualcuno aveva chiesto un po di tool che sono sempre fighi diciamo che per l'e commerce ma ma in generale diciamo per qualsiasi azienda quelli che sono utilizzati come strumenti per leggere i dati aggregarli e prendere decisioni sono le business intelligence diciamo che tu a spanne lo puoi fare anche a braccio nel senso che ti scarichi il numero d'ordini ti fai i calcolini con excel ci arrivi più o meno comunque alla conclusione però non vedi il dato in tempo reale tipo come con con metrics come abbiamo visto quindi il dato lo riesce a prendere a prendere una decisione a valle però ti devi andare a fare tutta una serie di export devi mettere invece ci sono strumenti che aggregano le fonti e ti danno quello che ti dà metrics vedi metrics mette insieme e commerce e analytics e ti dai il dato puoi trovare strumenti come google data studio o cose più evolute tipo click o c'è una piattaforma italiana di ragazzi che conosco molto molto bravi che stanno pubblicizzando in questi ultimi giorni che è diem diem studio mi sembra una roba del genere se non ricordo male diem explorer diem explorer che è un progetto interessante che vi dà proprio delle dashboard però lì andiamo già su un progetto un po più strutturato dove c'è una mole di dati e quindi tu devi capire ad esempio a colpo d'occhio il segmento maschile quali categorie merce logiche prende quanto è fidelizzato quanto sta spendendo risponde di più su facebook certi ti dà proprio uno spaccato di quello che come dire l'aggregazione del dato e quindi ti fa prendere delle decisioni molto molto mirate quindi se ci sono dei giorni precisi in cui funziona quindi te lo aggrega e poi istantaneamente modificare la scelta del dato e ti si aggiorna diciamo la dashboard e c'hai tutto una molle di dati che viene da analytics da facebook da google ads dal da prestashop tele aggrega e tu lì c'hai le possibilità infinite di mettere insieme questi dati e quindi poi vedere un pattern identificare qualcosa e prendere delle decisioni o semplicemente monitorare le che piai che diciamo stai stai guardando tenendo sott'occhio però naturalmente devi sempre abbiamo detto ammonto decidere quali sono i dati che devi scegliere devi analizzare certo certo ok giuseppe grazie mille per la tua disponibilità si possono avere alla fine link dei vari tools nominati e aggiungo io grazie grazie di rimettere appena chiudiamo le posto sia su youtube che su facebook grazie su youtube forse non sarà disponibile tra un minuto la registrazione però sarà disponibile comunque sul canale ufficiale sarà su facebook sulla pagina ufficiale su starting scale compress shop il gruppo che cosa stavo dicendo niente ti grazie giuseppe per la tua super disponibilità nel portarci esperienze casi studio in qualche modo esperienze reali e esempi pratici tra virgolette riguardo agli argomenti che portiamo di volta in volta grazie a te marco grazie a voce grazie a chi ci ha seguito in live a chi ci seguirà dopo ci scusiamo con i francesi e con lo stato perché non è rilingua però stiamo cercando di perché essendo lo streaming sulla pagina ufficiale di facebook stiamo cercando di targettizzarla per il mercato italiano e così per le altre live però un po di pazienza e lo spagnolo ci ha chiamati ladri criminali però ho dovuto moderare il commento però vabbè sarà per la prossima volta ci stiamo adoperando per evitare queste cose bellissime ciao a tutti ciao ragazzi alla prossima ciao a Marta grazie ciao